è confermato per settembre l'avvio dei lavori di riqualificazione destinati al padiglione dei fiori del cimitero centrale di pesaro interventi per trovare una soluzione a transenne accessi chiusi o modificati infiltrazioni rivestimenti pericolanti e agli altri disagi ripetutamente denunciati dai cittadini e dai fruitori dell'area nel corso degli ultimi anni la conferma sul crono programma arriva dall'assessore all'operatività del comune di pesaro enzo belloni il quale ha ribadito che una prima parte del pacchetto lavori sarà conclusa entro i primi giorni di novembre la tematica è stata affrontata anche questa mattina durante la riunione della nona commissione consigliare sicurezza attività economiche reti informatiche servizi demografici e patrimonio presieduta dal consigliere di maggioranza della lista forza pesaro un gran bel po vittorio petretti e alla quale ha preso parte anche il presidente aspesso luca pieri la commissione è una commissione periodica che viene fatta in cui veniamo convocati noi vertici di aspesso per fare il punto sui 15 cimiteri che il comune di pesaro ci ha affidato in gestione 12 sono pesaro e 3 sul territorio dell'ex comune di monte cicardo la commissione è andata bene insomma abbiamo risposto le domande e soprattutto abbiamo anche fatto il punto sul padiglione dei fiori dove non è competenza delle di aspesso ma del comune per via di un contenzioso giudiziario che c'è tra la ditta che ha realizzato il padiglione e il comune stesso il comune ha scelto di non attendere insomma l'esito del percorso giudiziario ma di intervenire improprio con un investimento di 400 mila euro per quello che c'è stato riferito dall'assessore belloni è già stata aspettata la gara e quindi c'è già un vincitore della gara e molto probabilmente nelle prossime settimane addirittura si pensa entro il mese di settembre che possono partire i rivoli di riqualificazione che in qualche modo hanno messo in difficoltà i cittadini ma anche noi che gestiamo quell'impianto. Tra gli argomenti emersi nell'incontro di questa mattina e sottolineati dal vice presidente della commissione Francesco Totaro consigliere della Lega anche l'esigenza di implementare le opere di manutenzione per i cimiteri di periferia diversificando in modo netto gli interventi straordinari e quindi di competenza comunale da quelli ordinari dei quali invece responsabile è Aspes. Una panoramica sull'attuale gestione dei siti cimiteriali è stata illustrata dal presidente Pieri il quale ha poi evidenziato la necessità di trovare soluzioni per l'allargamento della sede centrale. Sono cimiteri che hanno secoli di vita e che quindi in alcune situazioni creano problemi gestionali quotidiani per cui c'è una serie di interventi che vengono programmati e che in qualche modo danno risposte a quelle che sono le esigenze, le segnalazioni dei cittadini. Più difficoltà l'abbiamo sul cimitero centrale perché dal punto di vista della programmazione sono quasi terminate le aree in cui è possibile espandere e quindi realizzare nuovi loculi. Ad ottobre inizieremo la trasposizione delle salme che sono state tumolate in via provvisore nei cimiteri di Villa Fastigi e di Trebbia Antico e come abbiamo detto in commissione importante sarà da parte dell'amministrazione comunale individuare in tempi celeri quelli saranno i percorsi o di allargamento o addirittura di individuazione di aree anche esterne al cimitero centrale in cui puoi poter fare questa cosa. L'altra cosa che abbiamo messo in evidenza è che la cremazione ha raggiunto il 40% rispetto alle opzioni che ci sono post funerarie e metteremo in azione presto all'interno del cimitero centrale i nostri tecnici e i nostri dipendenti per la realizzazione di cimiteri.